Buongiorno. Niente, questa mattina stavo leggendo gli aforismi di Sigmund Freud e tre cose diciamo che mi hanno colpito particolarmente. Su seno della donna si incontrano amore e fame. Cosa significa? Che quando un bambino, ovvero un neonato, dal seno della madre riceve amore e più il primo nutrimento. Se al maschietto è permesso quanto il padre è in viaggio di dormire accanto alla madre e al ritorno di questi deve tornare nella camera dei bambini in compagnia di una persona che gli piace assai meno, è facile che in lui si formi il desiderio che il padre sia sempre assente per poter conservare il suo posto presso la cara bella mamma. E un mezzo per raggiungere questo desiderio è evidentemente che il padre sia morto. Sapete la storia, il complesso di Edipo, di Jung, che il bambino vuole prendere il posto del padre. E quindi questa è la spiegazione. Poi vi leggo l'ultimo. Ho notato che le persone le quali sanno di essere predilette o preferite dalla loro madre dimostrano nella vita quella particolare sicurezza in sé stesse, quell'incontrollabile ottimismo che non di rado appaiono eroici e spingono al successo reale. Grazie.